ci sono altre persone senza mascherina ma perché gli altri non glielo dite? vai a accompagnerare senza mascherina vai a accompagnerare senza mascherina hai capito? noi lo stiamo dicendo a tutti accompagnami, se la fai a accompagnarmi mettimi le mani addosso mettimi le mani addosso mettimi le mani addosso, sto aspettando sto aspettando che mi metti le mani addosso per accompagnarmi sto proprio aspettando io non ti sto minacciando che ti sta minacciando? vai a compagnare senza mascherina vai a accompagnare anche lui vai a accompagnare non parlare con mia moglie che ti mangio vivo che mi sta minacciando? che latone dei merda che mi sta minacciando? meno di gente senza mascherina come per cazzo a me cosa sono io? chi è testa di cazzo? 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 dimmi ancora testa di cazzo dai figlio di puttana dimmi ancora testa di cazzo dai dimmi ancora testa di cazzo dai dimmi ancora testa di cazzo